Sono ancora a Valencia, in questi giorni sto caricando i video pre-registrati prima di partire Quindi troverete un'altra partita di Fortnite quest'oggi sul canale Domani tornerò a casa, quindi ricomincerò a registrare i video giorno dopo giorno Bene ragazzi, questo è qui, bentornati in questo nuovissimo video di Fortnite Abbiamo fatto un paio di partite in squad e questi sono i risultati di ciò che è successo Vi auguro una buona visione, lasciatemi un mi piace e condividete Andiamo a salti dai, ho capito tanto che a voi non piace Shifty Ma è normale Anch'io adoro Shifty, loro la odiano No non la odio, non è una merda, è una via di mezzo È una via di mezzo Io sono Casa Blu Anch'io Casa Blu Io vado sopra Oh no è pieno di gente sopra Vado all'altra casa Qualcuno dentro Sta scendendo Hai preso un pompa Arrivato da te, arrivo da te Stronzo Ti avete uccisi? Sì C'è un altro Ottimo C'è un po' di chiusura va Occhio, occhio Porca troia Oh, oh, oh Ma dove sta il tipo? Aspetta che non ho più materiali Ucciso, ucciso, ucciso Sicuro? È noccato Sì, è noccato Quindi magari c'è un altro Cazzo, questi inizi turbolenti sono interessanti però C'è uno scudo, eh Perfetto, io ce lo bendo No, no, fermo, fermo C'è questo Oh, grazie Vabbè Allora, dietro il tetto Ah, bello Bravissimi Sa che questi volevano fare gli eroi Lo scarro l'ho licciato io Non avevo dubbi Portino for the win Conservatelo Magari se andiamo a dar questi tibot Ci facciamo la cazza che sta sotto alge Stato dei gelati Che poi non sappiamo se è vero Io non l'ho mai visto No, no, io lo so che è vero Ho due mediket se volete Io non ho un altro se vuoi staccare tu Scudini sopra Aspettatevi, aspettatevi, aspettatevi Il primo giorno qua atterravano tutti Vai, ci sono Incredibile Niente cazza? No, che schifo Tutta sta fatica Quindi tipo, qua? Costruzioni a 60 per salire tomato Eccoli là sopra, raga Hittato 85 No, 65 Atterra Ragazzi, sto arrivando Sì, sei sempre molto utile Vi controllavo le spalle Vabbè, io arrivavo Preso Quello che scappava Ce n'è un altro in teoria Sì, 46 C'è un altro l'albero Io sono sotto Un altro team Bene, allora forse arrivo in tempo Per fidare l'altro Dietro di noi, raga Ucciso Oddio Ma che uomo Noccato Ah, c'è uno qui C'è un altro Morto Sì, quattro Ce ne sono quattro qua C'è un acco Perché quasi quasi Se volete Gli scudini Hanno fatto Ma ci avevano un cecchino Questi No, credo di no C'è un fucile da caccia C'è un caccia Un caccia blusi Dobbiamo avviarci verso la zona Sinistra, raga 195 Hanno il meteorite Stanno scendendo ora 24 blu Ce n'è uno Anche a 247 Sto salendo Aspetta Oddio Lo vedete Quello con le treccine Proprio scoperto Mi ha noccato uno Ha noccato l'altro Quello a 233 Raga, inizio d'accordo Ma come ho preso Danno da caduta Da due centimetri Scusate Ce la faremo Sì Giù Giù Non ancora compagni No, sono morti Sterminio totale Ho tre medikit Comunque Nel caso in cui Ma dopo Qua c'è un bel cuore di cosa Io c'ho uno scudone grande Io non c'ho spazio per gli scudini Li prendo io Io c'ho 15 bende Tre medikit Traga Io c'ho cinque scudini piccoli E uno scudone grande Sta roba appena arriva in fondo Fa due Però non materiali Proprio zero La pedane è bellissima Dai Voi vado io Voi avete materiali Non troppi Uno Due Tenete lo scudone Ma c'ho Proiettili Assalto E cecchino Tieni qua Manca solo che c'ho il muro Con la finestra E siamo a posto Lasci tutti gli alberi a 50 Poi arrivo io E li spacco tutti quanti Bene che sappiano dove siamo Così sapranno da dove moriranno Eccoli Tutti qua A Pleasant Park Stanno faiitando tra di loro Cazzo No faiitano a me Ma dov'essi? Faiitano tra di loro Però sparano a me Madonna quanto macello fa questo FAMAT Io onestamente c'è indagata di qua Andiamo a bruciarli Cazzo C'è ancora un team Preso 150 Non è andato giù però Domanda è dove cazzo sono gli altri? Niente Ho morto Nascosto sicuro Ho preso in piena faccia Incredibile No Parca troia Un è caduta Un è caduta la data Quanti colpi gli devo tirare? Incredibile Cazzo Cosa? Non è possibile Vai in figa Vai in figa Davide Ah questo Ma è imposs... Ma te lo giuro L'ho colpito 100 volte C'ha 15 Sto cane No raga ve lo giuro 4 volte l'ho preso Ai 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 Cosa ho appena visto Il video di una che protesta qualcosa Vicino a una cassa Poi si allontana Si abbassa i pantaloni Caga e piscia Prende la merda E gliela lancia dietro al cazzo Cosa? Vedo gente che va a shifty Ragazzi ce li facciamo tutti Puniamoli Mi piace la tua mentalità Shieldino in più C'è un tac bianco se volete in questa casa Un attimo distruggendo la mobilia Così si fa impara impara Se vuoi stacco io I cittadini che ne ho Quello volevo dare a Fenice Ma non mi risponde Cosa? Si 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 Ma lui non può fare due cose Barenamente poverino Shifty shifty Poi hanno faiutato male a saltare A condurci C'hanno dato dentro Comunque tipo Un po' di tempo fa Vado a tagliare il pane Col coltello seghettato Mi scivola il coltello E mi taglio sul pollice Però era poco Vado a rimettere il coltello nel pane Mi scivola di nuovo il coltello Mi ritaglio Sopra lo stesso taglio Oh c'è gente c'è gente Sono tre Un livello condotti Ucciso Ucciso MVP Eh si già Eh già Che cazzo è l'altro? Ma questi qui correvano sopra le scale Guardando le scale tipo Si 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 Confermo Oh guardate la kill feed Quattro persone sono morte da caduta Come minimo hanno fatto tipo La rampa gigante per la sky base Esatto E hanno spaccato Pinnacoli quindi Perché c'è sempre santi a funghi ogni volta che ti chiamo È voglioso di uccidere Mi f***ato Dove? Nice Dove è il caccia? Push 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 Ce l'ho io È morto È morto Gli hanno ripulito il team Gli hanno ripulito il team Appunto è quella l'idea Noi andiamo a ripulire il loro team Andiamo a ripulire quelli che hanno ripulito Esatto 30 blu 60 blu Bella C'è qualcuno che mi spaga il cecchino da nord-est Dammi il caccia verde Quello lì che non usi Ok Se hai dei colpi li prendo volentieri Io c'ho un colpo Ragazzi Farò no Scopo me lo sento Qui devono venire per forza di qua Abbiamo un jump No Ehm Teoricamente c'è Tu ce l'hai? Santi? No Siamo messi malissimo nel fiume in questo momento Ucciso Ce l'ho morire in santa pace Ma gli amici? Secondo me questo ha fatto un giro diverso Gli altri hanno preso il fiume Non c'era un medico tipo Ce l'ho io Uh c'è un lama Mi servo munizioni assalto Come tu? Non le hai prese dal lama? Vieni qua No era buggata Non ce n'erano Ma baffa culo Vuoi i disati? 50 le prendo anch'io se ce l'avete Secondo me c'è gente qui Qua sotto c'è un drop Oh Spari da Nord-Ovest Io nel dubbio prendo il loot Secondo me sono il team di prima Faccio la fine del gatto Aspetta attenti voi giù che io vado a constare intanto Che non rimanga solo se vuol come roingaggio Ti raggiungo raga Ma dove cazzo è che spara questo? Dalla casa E' infatti Dentro la casa Ok visto Dittato Ora cade ora cade ora lo faccio cadere Stala dentro stala dentro Ucciso Ok Manca l'ultimo team A 289 tipo Sì sì Sono dentro Sono al ponte Sono al ponte? Sì Sono scesi sotto al ponte C'è il muretto avete presente? Dopo il ponte E lui è lì Sta andando dietro eh? Sta scendendo tutti Ma sì scendiamo ormai State uscendo dalla zona? E quella è l'idea E quella è l'idea Tutti sotto al ponte 41 senza scudo Vi vedo Vittato Uno è quasi morto Arriva la safe E devono correre quindi Gigi Da sinistra 62 Sono santa di gioco Sono a terra L'altro anche a terra Dietro di noi raga Dietro di noi Morto L'ultimo L'ho preso l'arma nuova Proviamo E dai là Dove l'ha? No La risa? No Eeeh Let's go No mannaggia Ho ucciso Turi Come è cazzo? Era convinto di averlo preso io Gigi Gigi quanti kill abbiamo fatto? Io 2 Io 3 5,9 e 12 Questo video di oggi ragazzi termina qua Io spero con tutto il cuore che vi sia piaciuto Siamo riusciti in qualche modo a prendere una vittoria reale Nella prima partita non so come sia possibile Quello lì non è morto Lasciate un bel mi piace Commentate e condividete Se con le maschine del canale Ci vi è piaciuto per i prossimi video Questa è per tutto Pala Magico Sonno Buonanotte